Ciao, mi chiamo Matteo Mascetta, ho 23 anni e sono un attore abruzzese. Ho studiato per due anni presso l'Accademia Teatrale Fondamenta, la scuola dell'attore a Roma. Sono 1,76 m, attualmente vivo a Sulmone in Abruzzo e sono anche residente a Roma. Queste sono le mie mani. E questi sono i miei profili. Vi ringrazio, ciao!